Un presidente ambizioso, motivato e con voglia di riuscire a raggiungere traguardi prestigiosi. E' questo l'identikit di Gioricci, numero uno del Cervinara, che ha saputo prendere per mano la formazione caudina e in pochi anni l'ha portata dalla salvezza in prima categoria a lottare per un posto nei play-off in eccellenza. Il 2016 è da incorniciare per i bianca-azzurri la promozione dopo lo spareggio con il Paul Isi, 33 punti conquistati nel girone di ritorno del raggruppamento C. E' una rincorsa finita nel migliore dei modi. Quarto posto quest'anno in eccellenza alle spalle di Ebolitana e Sorrento, club dal blasone e da un passato anche tra i professionisti. E davanti ad altri due nobili degadute, Battipagliese e Nola. 27 punti ottenuti frutto di 8 gare vinte, 3 pareggi e 5 perse, 19 gol realizzati e 9 subiti. Seconda migliore difesa alle spalle dell'Ebolitana. Un rendimento nel reparto arretrato rimasto alto nonostante l'addio di Capitan Cioffi verso Sorrento. 8 giocatori diversi andati in gol. Migliore marcatore Russo Lillo con 5, alle sue spalle Zerillo con 4. Dovranno avere di sicuro una marcia in più nel 2017 Solofra e Santommaso che vanno a caccia di una salvezza tranquilla. Di sicuro il torneo disputato dai conciari fino a questo momento è stato molto meno travagliato di quello dei Grifoni. Due punti di vantaggio sulla zona rossa che vede il San Giorgio quintultimo con 14 punti. 4 vittorie, 4 pareggi e 7 gare perse. I conciari che hanno il terzo peggior attacco del campionato, 14 gol siglati, 2 in più del Pricciola e 3 del Valdiano, hanno attuato un'autentica rivoluzione nel mese di dicembre per quanto riguarda il reparto avanzato. Via Fortino e Russomanno e dentro Polichetti dalla Sanseverinese capolista nel girone D. In gol subito contro Palmese e Sorrento. A mercato chiuso sono giunti alla corte di Messina l'ucraino Igor Vecz nell'ultimo campionato alle clanese dove ha siglato 5 reti ed il giovane Leandro Spina dal Chieti. Ancora più difficile la situazione del San Tommaso che ha sostituito Silvestro con Ciaramella. 8 punti in meno rispetto allo scorso anno, 19 quelli della passata stagione e sest'ultimo posto. 11 in questo torneo e penultimo posto al pari del Valdiano. 18 gol fatti e 30 subiti. Peggiore difesa del campionato. Via tutti i senatori Balzano, Pingue, Iennaco, Schioppa e Squitieri. In entrata gli ex Napoli Ammendola e Santo Suosso. E l'esperto centravanti Mallardo. Per Solofra e San Tommaso inizia un altro campionato.